250 Hz lettura ad alta voce un podcast di casa delle culture ascoltare una storia è come aprirsi al cambiamento le nostre anime di notte di cantaruf legge sonia antinori parte quinta all'inizio di agosto jean partì da grand junction per andare a trovare eddie e jamie che lo accolse sulla porta non vedo il cane di cui mi hai parlato disse jean è a casa di louise rispose jamie gli dai del tu si me l'ha detto lui entrarono e jean portò i bagagli di sopra nella camera sul retro in cui dormivano jamie e il cane e li posò sul letto starò qui con te nella mia vecchia stanza e ponny non può dormire con noi due dorme sempre con me vedremo tornarono di sotto e nel tardo pomeriggio louise passò a salutare aveva con sé la cagnetta jamie si mise in ginocchio a cocolarla poi la portò a giocare in cortile state alla larga dalla strada disse jean non ci andiamo mai papà ripresero a giocare jean guardò louise ho sentito che anche tu stai qui da mia madre certe notti che storia è questa amicizia prima di tutto cosa ti prende chiese eddie lo sapevi già cosa mi prende mia madre va a letto con un vecchio vicino mentre mio figlio nella stanza accanto e io non dovrei fare domande proprio così ti pare che sia un affario tuoi se c'è qui mio figlio sono affari miei non c'è niente di strano disse louise non gli stiamo facendo del male non sarei qui se lo pensassi non credo che aspetti a te giudicare tu fai i tuoi comodi perché ti dovrebbe importare di un ragazzino che appartiene a qualcun altro a me però importa di jamie beh lascia perdere non voglio che questa storia gli crei problemi so che tipo sei da bambino ho sentito parlare di te cosa ti hanno detto che hai lasciato tua moglie e tua figlia per un'altra donna è successo più di 40 anni fa comunque è successo sì e mi dispiace ma ormai non posso più tornare indietro e cambiare le cose louise lo osservò per un momento è meglio se me ne vado questa conversazione è inutile ti chiamo dopo gli rispose addy louise si alzò e uscì perché fai così esclamò addy cosa c'è che non va non voglio che mio figlio stia male non pensi che a fargli male quest'estate siano stati suo padre e sua madre sì certo e adesso ancora peggio non sai quello che dici sta molto meglio di quando l'hai lasciato qui e se vuoi sapere la verità louise gli ha fatto un gran bene quello vuole anche i tuoi soldi vero cosa cavolo stai dicendo se tu lo sposassi si prenderebbe la metà di tutto no non potrei impedirglielo non abbiamo intenzione di sposarci e i miei soldi non gli interessano dio mio che opinione meschina hai di me jean distolse lo sguardo non so cosa fare devo ricominciare tutto da capo sai che ti aiuterò per quanto per tutto il tempo che serve finché potrò ti stai già stufando è normale beh ma continuo ad aiutarti sei mio figlio gemmi e mio nipote per due notti il cane rimase a casa di louise e il ragazzino dormì al piano di sopra con il padre nella stanza sul retro la seconda notte domenica fece un brutto sogno si svegliò piangendo e non ci fu un modo di consolarlo fin quando non arrivò addy e lo strinse a sé e lo portò nel suo letto il lunedì jean li salutò e tornò a casa quando suo padre se ne fu andato gemmi andò da louise mise il guinzaglio e la guaina protettiva a bonnie e la porta fuori fece il giro dell'isolato si infilò nel violetto che portava sul retro della casa di eddy e rimase a giocare con lei sotto lo sguardo della nonna e di louise ieri notte è stato brutto di seti come quando era appena arrivato con quei brutti sogni era di nuovo agitato e jean mi ha detto che beverly torna a casa tra un paio di settimane e poi cosa succederà non lo so ci riprovano suppongo lei ritorna e gemmi inizierà la scuola quando se ne andrà potrebbe portare con sé il cane se loro sono d'accordo non so se vorranno perché non glielo chiedi potrebbe cambiare un po le cose guardarono gemmi e bonnie in cortile vuoi che venga stasera chiese louise sarà meglio per te vecchio porco ma gin non mi ha dato del porco io sì però rispose lei louise disse l'ultimo anno per lei fu orribile stava sempre male provarono a farle la chemio e la radioterapia che rallentarono la malattia per un po ma non riuscirono a eliminarla del tutto era sempre lì iniziò a peggiorare e non volle altre cure si stava consumando mi ricordo di sedi cercavo di essere d'aiuto lo so tu e tutti gli altri portavate cose da mangiare mi faceva piacere e i fiori ma non sono mai andata a trovarla in camera da letto no non voleva nessuno di sopra a parte ho lì e me non voleva che vedessero come era ridotta negli ultimi mesi e non voleva parlare aveva paura della morte qualunque cosa le dicessi non cambiava nulla tu non hai paura di morire meno di prima sono arrivato a credere in qualche tipo di vita dopo la morte un ritorno alla nostra vera essenza un'essenza spirituale abitiamo in questo corpo fisico finché non torniamo allo spirito io non so se credo queste cose ti sedi magari hai ragione tu lo spero vedremo giusto non ancora però no non ancora rispose eddie amo questo mondo fisico amo questa vita insieme a te e il vento e la campagna il cortile la ghiaia sul viadetto l'erba le notti fresche stare a letto al buio a parlare con te tutte cose che piacciono anche a me ma diane era sfinita alla fine era troppo stanca troppo esausta per fare caso alle sue stesse paure voleva andarsene voleva sollievo la fine di quello strazio negli ultimi mesi soffriva terribilmente dolori atruci persino con i sedativi e la morfina ma sotto sotto continuava ad avere paura di notte entravo nella stanza per controllarla e lei era sveglia a fissare l'oscurità fuori dalla finestra c'è qualcosa che posso fare per te dicevo no vuoi qualcosa no voglio solo che finisca tutto holly la aiutava a farsi il bagno e cercava di farla mangiare ma lei non aveva fame non voleva mangiare si stava lasciando morire immagino che in qualche modo ne fosse consapevole alla fine era così fragile così magra le gambe le braccia erano ridotte a stecchini i suoi occhi apparivano troppo grandi rispetto al viso da vedere era terribile e ovviamente per lei era ancora di più volevo fare qualcosa ma non si poteva fare molto altro stavamo già facendo il possibile l'infermiera veniva ogni giorno ed era molto brava e anche grazie a lei se da yen è potuta morire a casa non voleva più tornare in ospedale e così è stato alla fine morta holly e io eravamo in camera con lei ci fissò con quei grandi occhi immobili come se stesse dicendo aiuto aiuto perché non mi aiutate poi smise di respirare e se ne andò si dice che lo spirito per un po non si allontani che galleggia di sopra del corpo e credo che per lei fu così holly disse di avere l'impressione che sua madre fosse in quella stanza e forse la sentivo anch'io non ne sono sicuro era una sensazione una sorta di emanazione ma era molto flebile forse solo un alito non so perlomeno ora in pace in qualche altro luogo o in una sfera superiore penso di crederci lo spero da me non ha mai avuto ciò che avrebbe desiderato aveva una specie di idea una nozione di come dovrebbe essere la vita di come dovrebbe essere il matrimonio ma tra noi non è mai andata in quel modo io l'ho delusa avrebbe dovuto trovarsi qualcun altro sei di nuovo troppo severo con te stesso osservò eddi chi riesce ad avere quel che desidera non mi pare che capiti a tanti forse proprio nessuno è sempre un incontro la cieca tra due persone che mettono in scena vecchie idee e sogni e impressioni sbagliate anche se ripeto questo non vale per noi due non in questo momento non oggi anche per me è così eppure persino tu potresti stancarti di me e non volerne più sapere se dovesse succedere possiamo smettere disse lei questo è l'accordo tra noi no anche se non ce lo siamo mai detti sì quando ti stanchi puoi dirlo anche tu non penso che succederà diane non ha mai avuto quello che abbiamo avuto noi a meno che non ci sia stato qualcun altro senza che io lo sapessi ma non credo non sarebbe stato da lei in agosto ci fu la fiera annuale della contea di holt con rodeo e concorsi per il bestiame nello spiazzo a nord della cittadina iniziò dall'estremità sud di main street con una parata che risali la strada fino ai binari della ferrovia e alla vecchia rimessa dei treni il giorno della parata pioveva luis e eddie si misero gli impermeabili per gemine fecero uno bucando il fondo di un sacco nero della spazzatura e tutti insieme andarono in main street e si fermarono sul ciglio della strada tra la folla per prima arrivò la guardia d'onore con le bandiere appesantite dalla pioggia e i fucili gocciolanti in spalla seguita da vecchi trattori che rumoreggiavano per la strada e da vecchie mieti trebbiatrici caricate sui pianali dei camion e poi antiquate falciatrici etosa erba altri trattori scoppiettanti e sferraglianti la banda della scuola superiore che d'estate si riduceva a soli 15 elementi in jeans e camicie bianche in quel momento fradice e appiccicate alla pelle quindi le macchine decappottabili dei notai della contea con i tettucci chiusi per il maltempo poi la reginetta del rodeo con le sue assistenti a cavallo tutte esperte cavallerizze nei loro lunghi impermeabili da allevatore seguite da altre macchine di lusso con le portiere coperte da pubblicità le automobili di varie organizzazioni benefiche lion's club rotary caewones e schreners che serpeggiavano lungo la strada come ragazzoni esibizionisti sui loro vocart truccati e altri cavalli e cavallerizi in impermeabile giallo e un carretto a due posti verso la fine della parata c'era il camion di una delle chiese evangeliche della città con un'immagine religiosa in cartone sul pianale e un podio sulla parte anteriore sul podio c'era una croce di legno e davanti un giovane con i capelli lunghi e la barba scura che indossava una tunica bianca e reggeva un ombrello per proteggersi dalla pioggia quando louis lo vide scoppiò in una fragorosa risata la gente intorno a lui si girò a guardarlo ti metterai nei guai commentò eddie questa è una cosa seria potrà anche camminare sull'acqua ma non può impedire che gli cada sulla testa disse lei comportati come si deve jamie alzò la testa per vedere se fossero davvero arrabbiati alla fine della parata un camion della nettezza urbana di holt pulì le strade con le grandi spazzole rotanti nel pomeriggio smise di piovere e tutti e tre andarono alla fiera parcheggiarono e attraversarono le stalle passando accanto a cavalli lustri e alle mucche strigliate con il pelo della coda gonfio e pettinato e osservarono i grandi maiali sdraiati sulla paglia che ricopriva il pavimento grassi rosa ansimanti con le orecchie che non stavano mai ferme superarono le capre e le pecore appena tosate uscirono e girando fra le gabbie dei conigli e delle galline arrivarono alla zona delle giostre jamie montò sulla ruota panoramica assieme a eddie louis disse che gli faceva venire la nausea eddie e ragazzo iniziarono a salire e quando furono nel punto più alto lei gli mostrò i silos e il serbatoio a torre dell'acquedotto e indicò la zona in cui si trovava la loro casa in cedar street la vedi no proprio laggiù dove ci sono quei grandi alberi non la vedo guardarono in lontananza dove finiva la cittadina verso l'aperta campagna con le fattorie e i fienili e i filari di alberi frangivento poi tutti insieme provarono qualche gioco il tirassegno con i fucili e quello con le palline e comprarono zucchero filato rosa in un cono di carta per gemi e granite per eddie e louis continuarono a passeggiare osservando la folla poi tornarono indietro eddie e ragazzino fecero un altro giro sulla ruota panoramica ormai era tardo pomeriggio sentivano i rumori del rodeo ancora in corso nel campo al di là degli spalti la voce forte e allegra dello speaker non comprarono i biglietti per le tribune ma camminarono fino al lato opposto e guardarono oltre la cancellata i buoi che venivano presi a lazzo e i tori che venivano montati ci fu una corsa di cavalli sulla pista in terra battuta lunga un quarto di miglio videro i cavalli sfrecciare e i fantini che si alzavano in piedi sulle staffe una volta giunti al traguardo i cavalli con le narici dilatate agitati poi tornarono a casa in macchina il ragazzo fece uscire boni dalla cucina di louis e cenarono sulla veranda mentre il giorno finiva louis tagliò il prato di casa sua e quello di eti quindi svuotò il cesto di raccolta in una carriola che gemmi spinse via e rovesciò nel vialetto dove c'era un mucchio di erba marcia già prima di andare a prenderne altra quando ebbero finito louis sciacquò il tosa erba con il tubo per annaffiare e lo riportò nel capanno degli attrezzi una volta lì andò nell'angolo e sollevò il coperchio della scatola che era servita da nido ai topolini secondo te li rivedremo può darsi disse louis chissà dove sono finiti chissà se la madre li ha mai ritrovati entrarono nella cucina di eti e bevero tè freddo poi tornarono nel cortile laterale che era in ombra a giocare a palla eddi uscì con loro boni continuava a correre avanti indietro inseguiva la palla balzava in aria e la afferrava quando toccava terra poi si mise a correre in cerchio finché non la bloccarono a mezzogiorno louis andò a casa e il cane rimase con gemmi da eti i due pranzarono insieme chiacchierando tranquillamente poi il ragazzino e boni andarono di sopra nella tiepida stanza sul retro il cane si mise a dormire sul pavimento ai piedi del letto e gemmi giocò con il telefonino e chiamò la madre ci vediamo presto disse la donna non te l'avevo detto sto per tornare a casa papà cosa dice dice che è una bella cosa vogliamo riprovarci non sei contento quando arrivi tra una settimana o due verrai a stare a casa e certo e dove vuoi che vada non so magari da qualche altra parte tesoro io voglio stare con te ecco un papà sì e con papà qualche sera dopo eddi luise gemmi andarono a cena al wagon wheel cafe sulla highway 34 est della cittadina e sedettereo a un tavolo vicino alle grandi vetrate affacciate sui campi di grano il sole stava tramontando le sdoppie erano magnifiche nella luce radente avevano appena ordinato quando un anziano si avvicinò e si lasciò cadere sulla sedia libera un uomo robusto dall'aspetto solido e dal volto ampio e paunazzo in camicia a maniche lunghe e jeans nuovi luise disse conosci eddi mur vero stanley non bene quanto vorrei eddi lui è il famoso stanley thumpkins ma non sono poi così famoso famigerato tutt'al più e lui è il nipote di eddi gemmi muore qua la mano figliolo il ragazzino allungò il braccio e strinse la grossa mano del vecchio che fece una smorfia come se gliela avesse stritolata gemmi lo fissò ho sentito che voi due vi state vedendo disse stanley eddi ha deciso di sopportarmi disse luise mi fa pensare che anche per qualcun altro ci possa essere speranza eddi gli diede un buffetto sulla mano grazie è una cosa che rende ottimisti in effetti non conosce qualcuno che ha voglia di farsi coccolare da un vecchio contadino ma se sento qualcosa in giro mi faccio sapere sono sull'elenco del telefono mi si trova facilmente allora come vanno le cose disse luise oh sai come al solito mio figlio ha seminato il grano ed è partito per las vegas non ce la fa a tenersi qualche soldo in banca si è portato anche una ragazza di brush io non l'ho mai conosciuta credo sia bella come mai non sei andato con loro oh cazzo guardò gemmi scusami non mi è mai piaciuto granché mettermi a un tavolo con degli sconosciuti a pasticciare con le carte se tu o qualcun altro di qui organizzaste una partita poker in casa sarebbe un'altra cosa sapresti con chi stai giocando e sarebbe più divertente e comunque le grandi città non fanno per me come è andato il raccolto quest'anno piuttosto bene luise è meglio se lo dico sottovoce ma questa è stata una delle annate migliori da parecchio tempo la pioggia è arrivata al momento giusto e ce n'è stata tanta e per giunta da noi non ha mai grandinato dai vicini che stanno verso sud sì siamo stati fortunati la cameriera portò i piatti con il cibo vi lascio mangiare tranquilli si alzò e fece per dare di nuovo la mano al ragazzino ehi non stringere troppo stavolta gemmi porse la mano esitante e lo sfiorò appena bene ci vediamo stammi bene mi ha fatto piacere conoscerla signora mur dopo cena presero la macchina e si diressero verso la campagna fino alla fattoria di thumpkins a nord est della cittadina e al chiarore delle stelle si fermarono a guardare le distese di stoppie che avevano un aspetto fitto e regolare deve essergli andata piuttosto bene disse luise mi fa piacere anche lui ha passato dei brutti periodi come tutti ma non quest'anno disse eddi no non quest'anno morì durante la messa una domenica mattina di sedi lo sai sì mi ricordo era agosto in chiesa faceva caldo e carla era sempre in giacca e cravatta anche nei giorni più torridi dell'estate pensava che facesse parte del suo ruolo di uomo d'affari di agente assicurativo aveva le sue idee su come mantenere le apparenze non so perché o a chi dovesse importare ma a lui importava a metà del sermone lo sentì appoggiarsi a me e pensai sei addormentato lasciamolo dormire sarà stanco ma poi crollò in avanti e prima che riuscissi a fermarlo sbatté la testa contro lo schienale del banco di fronte mi allungai per prenderlo ma fu come se si ripiegasse fuori dal sedile e finì per terra mi chinai su di lui gli sussurrai carl carl la gente intorno a noi lo guardava e l'uomo seduto accanto a lui si spostò lungo il banco per cercare di aiutarmi a sollevarlo il pastore smise di parlare e altra gente si alzò e si ci no per dare una mano chiamate un'ambulanza disse qualcuno lo tiramo su dal pavimento lo facciamo sdraiare sul banco cercai di fargli la respirazione bocca a bocca e un massaggio cardiaco ma ormai era morto arrivarono i barellieri vuole portarlo all'ospedale chiesero risposi no portatelo alle pompe funebri non possiamo spostarlo prima che arrivi il medico legale dissero quindi lo aspettammo e finalmente venne e dichiarò la morte di carl l'ambulanza lo trasportò alle pompe funebri io e jean la seguivamo in automobile l'impresario ci lasciò con lui nella stanza sul retro uno spazio piuttosto formale tranquillo non il locale dove ricomponevano le salme io dissi che non volevo fosse ricomposto jean era d'accordo con me era a casa per l'estate in vacanza dall'università così ci sedemmo in quella stanza con il corpo di suo padre jean non volle toccarlo io mi chinai e lo baciai sul viso a quel punto era già freddo e gli occhi non stavano chiusi era strano e inquietante nella stanza c'era un profondo silenzio jean uscì io rimasi lì per un paio d'ore mi avvicinai con una sedia mi chinai su di lui gli teni la mano pensando a tutto il tempo in cui era sembrato che le cose tra noi andassero bene infine lo salutai andai dall'impresario gli dissi che per il momento avevamo finito volevamo che il corpo fosse cremato e ci mettiamo d'accordo era successo tutto troppo in fretta ero in una sorta di trance probabilmente ero sotto shock per forza è normale disse louise ma ancora oggi rivedo tutto con chiarezza e ho quella sensazione di estraneità le cose di questo mondo mi sembrava di muovermi in un sogno a prendere decisioni che non sapevo di dover prendere oppure di parlare senza sapere bene cosa stessi dicendo jean era completamente sconvolto però non voleva parlarne ma in questo era come suo padre nessuno dei due parlava mai si fermò per una settimana poi tornò all'università dove gli concessero di occupare in anticipo il suo appartamento e rimase lì per il resto dell'estate sarebbe stato meglio se fossimo riusciti a sostenerci a vicenda ma non andò così io stessa non penso di essermi sforzata molto volevo che rimanesse ma capivo che non serviva né a lui né a me non facevamo che evitarci e quando provavo a parlargli di suo padre mi diceva lascia stare mamma in questo momento non importa è chiaro che non importava aveva accumulato un sacco di rabbia e risentimento nei confronti di carla penso che non se ne sia liberato ancora oggi in parte è per questo che il suo rapporto con jamie è così difficile è come se ripetesse quello che è successo tra lui e suo padre non puoi aggiustare tutto non ti pare disse louise ci proviamo sempre ma non ci riusciamo una domenica mattina stavano bevendo il caffè seduti al tavolo della cucina sul post c'era una pubblicità della stagione teatrale del denver center for the performing arts ed i disse hai visto che danno uno spettacolo tratto dall'ultimo di quei libri sulla contea di holt quello con il vecchio che sta morendo e il predicatore come hanno fatto i primi due suppongo possano fare anche questo disse louise i altri li hai visti le ho visti ma non riesco proprio a immaginare due vecchi allevatori che accolgono in casa loro una ragazza incinta può succedere disse lei la gente può fare cose imprevedibili non so disse louise si è inventato tutto lui i dettagli li ha presi da holt i nomi delle strade le descrizioni della campagna e la posizione dei luoghi però quella non è holt e i personaggi non esistono se li hai inventati tutti conosci dei vecchi fratelli che somiglino a quei due quelle storie sono successe qui che io sappia no nemmeno per sentito dire si è inventato tutto potrebbe scrivere un libro su di noi ti piacerebbe non mi va di finire in un libro rispose louise è la nostra storia non è più improbabile di quella dei due vecchi allevatori di bestiame però è un'altra cosa in che senso chiese eddy beh siamo noi non siamo improbabili non mi sembra all'inizio però lo pensavi non sapevo cosa pensare mi avevi colto di sorpresa beh adesso non sei contento è stata una bella sorpresa non dico di no ma ancora non capisco come ti sia venuto in mente di chiedermelo te l'ho detto solitudine voglia di qualcuno con cui parlare di notte sei stata coraggiosa hai corso un rischio sì in ogni caso se non avesse funzionato non credo mi sarei sentita peggio se non per l'umiliazione di venire spinta ma ho immaginato che non saresti andato in giro a raccontarlo se mi avessi rifiutato l'avremmo saputo solo tu e io però ora lo sanno tutti lo sanno da mesi siamo una notizia vecchia non siamo una notizia vecchia non facciamo proprio notizia di nessun tipo né vecchia né nuova disse louise e tu vorresti fare notizia no diamine voglio soltanto vivere tranquillo badare le cose di ogni giorno e di notte venire a letto con te beh è proprio quello che stiamo facendo chi si sarebbe aspettato che a questo punto delle nostre vite potesse capitare una cosa del genere chi l'avrebbe mai detto per noi le novità e le emozioni non sono finite non siamo diventati aridi nel corpo e nello spirito e non stiamo nemmeno facendo quello che pensa la gente a te andrebbe chiese a di dipende solo da te un sabato verso la fine di agosto jean si mise in viaggio sulle montagne diretto a holt per riportare a casa il figlio arrivò nel tardo pomeriggio entrò in casa dalla madre li abbracciò entrambi e poi uscì a fare una passeggiata con jammy e bonnie non ti piace ma certo non la tochi mai non l'hai accarezzata nemmeno una volta lui si chinò sulla bestiola e le diede un buffetto sulla testa le parlò in tolo gentile poi proseguirono nel loro giro dell'isolato e tornarono a casa di eddie passando dal vialetto posteriore cenarono e la sera jean dormì nel letto matrimoniale della stanza sul retro con jammy e bonnie louis se ne tette alla larga il mattino dopo misero in valigia i vestiti di jammy i suoi giocattoli e l'attrezzatura da softball il cipo e la ciotola del cane poi il ragazzino disse devo salutare louis dobbiamo andare ci metto un minuto papà devo farlo cerca di fare in fretta allora corse a casa di louis ma lui non c'era aprì la porta lo chiamò e corse per tutte le stanze tornò indietro in lacrime puoi telefonargli dopo disse il padre non è la stessa cosa non possiamo aspettare già così arriveremo a casa tardi eddie lo strinse forte e disse chiamami hai capito voglio sapere come stai e come va la scuola jammy era aggrappato a lei che gradualmente allento la presa mi raccomando chiamami lo farò non gli diede un bacio e tu sii paziente lo so mamma lo spero potresti telefonarmi anche tu partirono lei era ferma sul ciglio della strada jammy e bonnie la guardavano dal finestrino posteriore il ragazzino stava ancora piangendo eddie rimase a fissare la macchina finché non scomparve dalla vista quando fece buio louis non era ancora arrivato così lo chiamò dove sei non vieni stasera non ero sicuro ancora non ci siamo capiti vero non voglio starmene qui sola a rimuginare come fai tu a risolvere le cose per conto mio voglio che tu venga qui così possiamo parlare prima mi do una lavata non ce n'è bisogno sì ci tengo arrivo tra un'ora beh sarò ancora qui disse ti aspetto si fece la barba e la doccia come faceva sempre e nel buio della sera costeggiò le case dei vicini e andò da eddie che lo attendeva seduta nella veranda si alzò si fermò sui gradini e per la prima volta gli diede un bacio in un luogo in cui altre persone avrebbero potuto vederli certe volte hai la testa così dura gli disse chissà se imparerai mai non ho mai pensato di essere duro di comprendonio ma a quanto pare lo sono per come la vedo io sì so cosa penso di te e quanto sei importante per me ma non riesco a mettermi in testa che anche per te possa essere lo stesso o quasi non ho intenzione di parlarne di nuovo è un problema tuo non mio e adesso andiamo di sopra a letto si abbracciarono nell'oscurità e lei disse non so proprio se funzionerà stai ancora parlando di noi sto parlando di mio figlio mio nipote e sua madre piangeva quando se n'è andato sai perché perché sentire la tua mancanza sì rispose lei ma stava piangendo perché non è riuscito a salutarti dove eri ho fatto un giro in macchina in campagna poi ho deciso di andare a pranzare a phillips e sono tornato solo nel tardo pomeriggio è andato a casa tua voleva vederti prima di partire vedi quanto ci tiene a te anch'io tengo a lui spero solo che gine e sua moglie riescano a stare meglio insieme magari durante l'estate hanno imparato qualcosa sono già preoccupata per loro cos'è che ci siamo detti che è impossibile aggiustare le vite degli altri no questo vale per te disse lei non per me capisco rispose luiz o mi sento già meglio a parlare con te avendoti accanto non abbiamo parlato molto per il momento eppure mi sento già meglio te ne sono grata ti ringrazio per tutto questo adesso mi sento di nuovo molto fortunata avete ascoltato la quinta parte di le nostre anime di notte di kentaruf letto da sonia antinori per 250 hertz lettura ad alta voce un podcast di casa delle culture a 2 2 3 4 5 6 6 7 8 8 8 9 9